Insignito a Milano del titolo l'amministratore delegato dell'Inter un grande riconoscimento, ringrazio chi mi è stato vicino e ha lavorato con me in tutti questi anni l'Inter ora ha un cavaliere in più. Niente metafore o soprannomi, ma pura realtà l'amministratore delegato Giuseppe Marotta è stato infatti insignito del titolo nella Sala Verdi del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano. La nomina è frutto dell'iniziativa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è avvenuta durante la cerimonia di consegna delle onorificenze o l'ordine al merito della Repubblica Italiana. Cosa significa? Il commento dell'amministratore delegato Nerazzurro Sporta sono molto contento di questo riconoscimento e rappresenta il culmine della mia carriera di oltre 40 anni. Sono molto orgoglioso di riceverlo e colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che mi sono stati vicini e hanno lavorato con me in tutti questi anni. Ma cos'è l'ordine al merito della Repubblica Italiana? È il primo degli ordini cavallereschi nazionali ed è destinato a premiare i meriti acquisiti verso la nazione nei campi delle lettere, delle arti, dell'economia nel disimpegno di pubblici uffici attività svolte a fini sociali, filantropici umanitari, nonché per il lungo illustre servizio nelle carriere civili militari.